Un sorpasso improvviso, la moto che si schianta contro un trattore e il conducente che viene sbalzato oltre il ciglio della strada. È morto così sul colpo attorno alle 13 di lunedì lungo l'ex statale 461 fra Voghera e Rivanazzano Terme, Sala Sobi, un trentenne originario del Marocco ma che abitava da tempo a Voghera. L'uomo era alla guida di una motocicletta da strada. L'allarme è stato immediato e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia stradale e alcune equip del 118. A loro arrivo però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo proveniva da Voghera e procedeva in direzione Rivanazzano Terme, quando poco prima della stazione di servizio e della rotatoria dell'aeroporto avrebbe tentato un sorpasso, trovandosi però la strada sbarrata da un trattore. Il tentativo di correggere la traiettoria è stato inutile ed è finito contro la parte anteriore del mezzo agricolo. L'impatto è stato terribile, uomo e moto sono stati sbalzati oltre la scarpata della strada. La due ruote, una 125 rossa, è finita alcune decine di metri più in là, all'interno di una proprietà privata. Dalle prime verifiche da parte delle forze dell'ordine, la moto sarebbe risultata in stato di fermo a seguito di una denuncia per furto e non è escluso che il conducente non indossasse il casco. La vittima è inoltre risultata aggravata da numerosi precedenti di polizia. Grazie. 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 Grazie.